Il comitato era già pronto a dare battaglia con un esposto in procura, ma il contratto per l'inizio dei lavori sulla strada regionale 487 è stato siglato proprio questa mattina. Incredibile ma vero. La ditta appaltatrice è l'impresa Carcone con sede a Minturno. L'importo complessivo dei lavori ammonta 316.223,96 euro. Gli interventi saranno eseguiti in 72 giorni, per cui la strada potrebbe essere riaperta alla circolazione entro il mese di settembre. Intanto il settore viabilità della provincia continua in coordinamento con i dipartimenti dell'ANAS dell'Aquila per la cessione delle strade provinciali, tra cui la strada regionale 487 di Caramanico Terme, arteria che probabilmente sarà ceduta entro il mese di luglio. La provincia e con esse consiglieri delegati Gianluca Alfonsi, Veloigi Ressignore e Mauro Tirabassi, si legge in una nota dell'ente, mai come in questi ultimi mesi ha lavorato per recuperare le mancanze degli ultimi anni, come nel caso di questa importante arteria chiusa da oltre sei anni. I lavori appaltati sulla strada regionale 487, come altri interventi che hanno interessato le carrabili provinciali, sono il prodotto di progettazione e linee guida condivisi con le comunità insieme ai sindaci, un percorso pensato da questa amministrazione per un concreto rilancio delle aree interne, al fine di garantire lo sviluppo economico, culturale e sociale di un distretto dalle enorme potenzialità e traino di un'intera regione.